Di qua ci passo al minimo 6-7 volte al giorno, poi lavoro qua a Tufo e io vedo sempre questo schiume. Ieri proprio era proprio pieno, in questa cascata che sta proprio qua sotto, alla nostra destra, sinistra, c'era proprio una marea di schiume. Secondo lei da cosa proviene questa schiume? Ma non lo so, ma però non è che capita soltanto adesso, sta capitando spesso e volentieri. L'unica cosa da notare è che durante il Covid non si è mai visto più quella schiume. Adesso sta peggiorando giorno per giorno. Giuseppe percorre ogni giorno la strada che taglia quella banda, così si chiama la piccola contrada attraversata da fiume sabato. Nel periodo del lockdown, delle restrizioni per il Covid, l'acqua era talmente limpida da poterci fare il bagno, assicura Giuseppe. Un indizio utile per comprendere le fonti dell'inquinamento. Dopo l'allarme lanciato ieri dall'associazione Salviamo la Valle del Sabato, sulla scia delle immagini shock riprese da un pescatore, stamane ci siamo di nuovo recati sul posto. La montagna di schiuma bianca era ancora lì, libera di uccidere, madre natura, il massacro dell'ambiente in una delle osi più suggestive e preziose della Valle del Sabato. Il fondale è contrastante, le schiume dell'inquinamento del Sabato e poi il castello Logobardo, il front line del Palazzo di Marcio, uno dei centri storici medievali più belli del Mezzogiorno, io credo. A distanza di 24 ore la schiuma continua a essere presente, vuol dire che non siamo di fronte a uno versamento occasionale o limitato, ma a qualcosa di duraduro, di strutturale che ovviamente non può pervenire da ambienti civili, ma da complessi produttivi, da realtà che producono queste forme di inquinamento in totale libertà e purtroppo nocività. Lanciamo un appello serio, accurato, perché continuare così significa in qualche modo invalidare anche il destino della salute, ma anche della valorizzazione delle nostre zone. Stiamo ammazzando un territorio, lo stiamo ammazzando nell'indifferenza, che è l'altra faccia poi della colpevolezza dell'inquinamento. Questo è qualcosa di inaccettabile. Il punto è proprio questo, che noi non siamo in Brianza, siamo in un fronte di 4-5 chilometri che parte dalla zona industriale di Piano Tardine, di Arcella, che è un po' l'ipicentro, come sappiamo, degli origini della produzione di questi inquinamenti, che poi si trascina a valle e investe tutti i comuni riviaschi del fiume Sabato. E questo purtroppo significa che è una devastazione non legata a un solo territorio, ma a una dinamica che non include nessuno.